Amara sorpresa per un parrucchiere che si trova in via Montegrappa, siamo nella zona di Saione. Ha trovato la porta a vetri, l'ingresso in frantumi, presa a martellate. Ci racconta che cosa è successo? Niente, io ho avuto questa chiamata, erano le dieci e mezza, mi ha chiamato il ragazzo della pizzeria e ho detto, guarda, vieni qui perché hai la vetrina rotta, c'è una mazzola a terra. Io ho fatto denuncia proprio per avere questo attestato per esporre al comune, se il comune ci ascolta, di mettere del telecamere, una sorveglianza qui dietro perché qui non si capisce niente, cioè qua si sfaccia, qua si fa tutto, è di tutto. Residenti e commercianti dunque si sentono abbandonati e chiedono interventi alle istituzioni perché avvertono un vero e proprio problema di sicurezza in questa zona del quartiere di Saione. Chiediamo che se mettessero delle telecamere per dire agli angoli, per dire un angolo qui che prende, per dire via Isonzo e via Montegrappa è l'angolo lì che prende, per dire via Piave, per dire che ci sono altri commercianti, perché hanno subito anche loro rapine e tutto. Tutto è di più, addirittura persone embriache si mettono qui, io alle 6 la sera devo giudere il cancello, devo lavorare dentro. Il quartiere non è così ben frequentato, quindi insomma sì c'è da avere paura. Io stessa tengo sempre il negozio chiuso perché poi lavorando da sola qui è un continuo di gente, insomma, che non sono proprio il massimo del raccomandabile, perciò bisogna stare attenti. Se girano delle pattuglie, insomma le persone si riguardano anche maggiormente, se ci sono delle persone ubriache oppure delle persone in uno stato confusionale, insomma, è meglio, no? Voglio dire, se ne vanno. Gli episodi sono tanti da queste parti, insomma succedono queste cose. Oggi è successo a noi, altre volte è successo ad altre persone, non siamo tranquilli, il quartiere non è tranquillo.